Il genio motoristico italiano si prende cura dell'ecologia. Il primo e unico scooter ibrido mai apparso sul mercato è un primatista di razza. Il primo e unico in cui due motori, termico ed elettrico, lavorano in sinergia. Il primo e unico veicolo con tecnologia plug-in e batteria litio. MP3 Hybrid è la risposta alla sfida della mobilità pulita e responsabile. Rappresenta il punto più avanzato della capacità del gruppo Piaggio di fare ricerca, di innovare il concetto di mobilità. 2006 Piaggio presenta MP3 Il primo scooter a tre ruote che rivoluziona il concetto di sicurezza e il piacere di guida. 2009 Piaggio presenta il futuro MP3 Hybrid 2010 Piaggio innova il concetto di eco-mobilità e accessibilità. MP3 Hybrid con motore termico 300 cm3 anche in versione LT. Fino a 60 km con un litro di benzina e solo 40 g di CO2 emessa al chilometro in modalità ibrida. Emissioni inquinanti e acustiche zero in modalità elettrica. Risultati inimmaginabili per qualsiasi motore tradizionale, ma non per MP3 Hybrid. La tecnologia ibrida parallela sfrutta in ogni condizione i vantaggi offerti da ciascuno dei due motori, esaltandone le potenzialità. In ogni istante ottiene sempre il meglio della tecnologia termica e di quella elettrica. Una sinergia vincente, che aumenta le performance e che dimezza consumi ed emissioni rispetto ad uno scooter di media cilindrata. Il cuore del sistema è composto da quattro elementi innovativi. Motore termico da 125 o 300 cm3, macchina elettrica, BMS, VA Coal Management System, batteria a litio. Due, i motori termici disponibili, il brillante 125 e il performante 300 cm3, ambedue dotati di iniezione elettronica e di sistema di controllo Ride by Wire. La macchina elettrica è reversibile, funziona sia da motore che da generatore e ricarica le batterie, recuperando energia in decelerazione e frenata. Il BMS gestisce integralmente il veicolo e tutti i flussi di energia. La batteria ha gli ioni di litio, leggera, ad alta resa ed autonomia, grazie alla tecnologia plug-in, si ricarica in sole tre ore anche da una normale presa di corrente. Un sistema sofisticato, che ottiene la massima efficienza, gestendo la sinergia tra i due motori. Quattro, le modalità operative di MP3 Hybrid, selezionabili al manubrio. Hybrid Power, la potenza del motore elettrico si somma a quella del motore termico per aumentare le prestazioni e per ridurre consumi ed emissioni. Hybrid Charge, il motore termico ricarica le batterie utilizzando la macchina elettrica come generatore per ottenere la massima autonomia. In modalità elettrica, MP3 Hybrid diventa un veicolo ad emissioni zero, con autonomia fino a 20 km e libero accesso alle zone a traffico limitato. In queste tre modalità, è sempre attivo il recupero di energia in frenata o decelerazione. Infine, la modalità ritromarcia, anch'essa elettrica, per facilitare le manovre di parcheggio. Attenzione all'ambiente Economia di esercizio Piacere di guida Sicurezza Praticità d'uso Oggi, MP3 Hybrid, anche in versione LT, offre il massimo dell'accessibilità, possibilità di guida con la sola patente B e libero accesso a tangenziali e autostrade. Piancio MP3 Hybrid, il nuovo patto tra tecnologia e ambiente. Piancio MP3 Hybrid, il nuovo patto tra tecnologia e ambiente. Piancio inizia Piancio inizia Piancio inizia